Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il marsupio tattico della c***a. Let's go! Molto spesso ci dimentichiamo che le modalità di trasporto degli oggetti che ci servono in combattimento o anche nella vita normale, sono importanti. Quindi avere qualcosa che sia effettivamente resistente e allo stesso tempo pratico è una cosa estremamente importante. Per questo trovo che molte volte attrezzature previste per il software e poi riadattate anche all'uso civile siano incredibili e di ottima qualità. Molto spesso infatti l'utilizzo di questi prodotti è pensato sia per un uso urbano ma piuttosto e più che altro per un utilizzo in campo. Questo porta a dover creare un prodotto che sia estremamente resistente, funzionale ovviamente e pratico. Finito il pippone sul perché questo genere di attrezzatura per me è estremamente valido passiamo ai prodotti in singolo. Io tra l'altro questo è il mio marsupio, ci sono dentro le mie chiavi e il mio portospino. Non giudicatemi. Questo borsello ha una caratteristica molto molto particolare, ve lo faccio vedere su questo da esposizione. È possibile inserirci all'interno un'arma da fuoco, quindi una pistola in questo caso. Ci sono degli elattici che vi aiuteranno a tenerla ferma, ce ne sono due, una per la canna della pistola, l'altro invece portacaricatore. È un marsupio estremamente funzionale, ha 250 tasche diverse, l'unica piccola pecca forse che non ha un velcro attaccato qui, quindi non è possibile metterci delle patch, ma questo si può risolvere molto semplicemente, o ce lo fate cucire come sto per fare io, oppure ce le attaccate in un altro modo. È provvisto di un put***o di tasche, perdonatemi il termine, tenete conto che solamente nella parte frontale ha una tasca rete, una tasca aperta interna e una con la zip. Subito dietro ha la tasca grande, io qui per esempio tengo gli occhiali, anche qui un'altra retina interna per tenere chiavi della macchina, monete eccetera eccetera, sempre con i suoi due elastici di retenzione per le cose. È possibile infilare le cose anche più in alto perché c'è lo spazio, che è quindi perfetto per la canna della vostra pistola o per un caricatore. Vi sono poi altre due piccole tasche, una laterale qui dove potete tenere quello che volete, io vi porto un coltello che non si sa mai, soprattutto quando vado in montagna, nell'altra io tengo chiavi della macchina e altre cose, sempre molto molto comodo e molto molto pratico. Infine si ha la possibilità di mettere le cose più importanti, magari documenti, soldi, in questa piccola taschina qui dietro, un po' più anonima rispetto a quelle altre. È ovviamente completamente regolabile tramite queste fettuccine ed è presente anche una clip che ci permette di aprirlo e chiuderlo in maniera semplice. L'ho trovato molto comodo da portare a tracolla in questo caso perché si adatta perfettamente alla mia schiena ma ovviamente lo potete mettere anche in cintura. Quindi in conclusione stiamo parlando di oggetti che sono fatti di materiali estremamente resistenti e che hanno un'altissima durabilità nel tempo, sono estremamente comodi da trasportare, sono estremamente utili per trasportare le cose, soprattutto il marsupio, devo dire che l'ho trovato pazzesco, ma come anche gli zaini e offrono, ripeto, una possibilità di personalizzazione e allo stesso tempo di fuga da quelli che sono i canoni normali e lo stile normale delle cose che a me gusta molto, infatti ho la possibilità di rendere questi accessori parte del nostro stile e renderli personali e quindi irriconoscibili rispetto a quelli di qualcun altro e questa è una cosa che mi garba molto. Questo zaino come questo borsello rispetto a uno zaino, un marsupio della Napa Piri per dirne una che mi costa 50 euro a due tasche, ce l'hanno tutti e l'unica cosa che potete cambiare è alla fine il colore, attaccarci delle spillette che ci stanno di merda, qui avete la possibilità di renderlo personale, vostro, è abbastanza normale quindi non dovete neanche aver paura di sembrare degli invasati se ci girate e dargli uno stile tutto vostro. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi su io incredibile marsupio col porco spinno. Se siete interessati a venirli a vedere, provarli, metterci dentro la vostra pistola e il resto noi vi aspettiamo qui a braccia aperte. Ci rivediamo al 6 mm 2. Non dovevo dirlo? No. Quindi non lo so. Ma la smette io, in via di perdere il fuoco, sono molto alti, in quanto viene realizzato con l'idea che debba essere utilizzato in condizioni che lo porterebbero ad avere un grandissimo c***o nel c***o. Come perché stiamo parlando di niente, stiamo parlando di un c***o enorme, nel c***o sempre. Beh, e che devo dire? Questo perché sono questo perché, queste perché sono questo perché, questo perché nella m***a, questo perché, questo perché, questo perché, questo perché, questo perché, nella m***a, questo perché, f***o quanto sono stato bravo. Sei stato bravissimo, grazie. Sei una s***a, Giorgi.